Si sono fatti aprire la porta spacciandosi per impiegati dell'azienda dell'acqua, ma una volta dentro l'hanno spintonata e obbligata a farsi consegnare soldi e gioielli. Sono stati attimi di terrore per un'anziana donna di 75 anni di Santa Margherita nel comune di Capannori. Erano da poco passate le 9 del mattino, quando la signora, che vive con il figlio, uscito per andare a lavoro, ha sentito suonare il campanello. I tre uomini hanno detto di essere i tecnici dell'azienda dell'acqua e di dover controllare il contatore. Entrati in casa, trascorsi pochi attimi per verificare che non ci fossero altre persone, i banditi hanno preso e strattonato la donna per un braccio, intimandole di consegnare loro soldi e gioielli. La signora gli ha così dato circa 2000 euro in contanti e alcuni monili in oro. Presa la roba, i malviventi si sono allontanati. Nell'impeto di dare l'allarme, l'anziana è scivolata sulle scale procurandosi altri traumi, oltre a quelli subiti alla spalla per colpa dello strattonamento. Sul posto sono giunti i carabinieri e un'ambulanza che ha portato la signora in ospedale. I militari hanno subito cominciato le ricerche dei malviventi sulla base dei pochi elementi che l'anziana è riuscita a fornire agli investigatori, ma al momento dei banditi non c'è traccia. Purtroppo questo episodio riporta alla mente il fatto avvenuto il 4 aprile scorso a Forte dei Marmi, quando Luana Mariani, 77 anni, è stata trovata nella sua abitazione senza vita, legata e imbavagliata dopo una tragica rapina. Delitto che al momento non è ancora responsabile, ma su cui la polizia continua a lavorare senza sosta.